Un vero e proprio scontro, quello tra governo e sindacati sulla cosiddetta regionalizzazione dell'istruzione. Una proposta avanzata e cavalcata dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che andrebbe a minare l'unitarietà del diritto all'istruzione. Una battaglia che i sindacati hanno deciso di portare avanti per scongiurare il ritorno alle cosiddette gabbie salariali del passato e con un'istruzione di serie A e di serie B che dividerebbe il paese di nuovo in un nord ricco ed evoluto con un'istruzione ben finanziata e un sud d'Italia che resterebbe drammaticamente indietro anche per un diritto fondamentale come quello dell'istruzione. Perché dite no alla regionalizzazione? Ma per la scuola la regionalizzazione sarebbe veramente devastante. Intanto c'è proprio un punto a mio avviso ideologico fondamentale cioè che l'unitarietà dell'insegnamento e l'unitarietà della scuola è uno dei principi fondanti della scuola italiana. Se noi ripercorriamo quella che è stata la storia della scuola italiana, la scuola italiana nasce per unificare sicuramente non per dividere. Poi perché chiaramente laddove le regioni avrebbero voce sull'organico, potrebbero gestire gli organici, avremmo una totale sperequazione tra tutte le regioni italiane per cui regioni più ricche potrebbero avere organici più ricchi, potrebbero scegliere in qualche modo la qualità nonché la quantità degli organici e questo chiaramente porterebbe alla temuta costituzione di scuole di serie A, scuole di serie B. Ci sono anche i salari che verrebbero in qualche modo influenzati? Sì, certo, i salari sarebbero influenzati perché è chiaro che le risorse delle regioni non sono tutte uguali, quindi il rischio è che si possa tornare a quelle che una volta erano chiamate le gabbie salariali, il cui superamento è stata una delle più grandi conquiste delle lotte operaie di qualche decennio fa. Presumibilmente si tornerebbe addirittura a questo, anche per la scuola.